Sané con Fabinho e Bernardo Silva che scambiano Fabinho al centro, Foccao il ruggito del Tigre 1 a 1 ha pareggiato il Monaco con Foccao al centro c'è Mbappé invece davanti a Cabascielo Mbappé sfonda la red 2 a 1 per il Monaco è nata una stella all'Etihad Killian Mbappé duello all'Ok Coral Falcao rincorsa lenta, destro parato Standing velocissimo con la palla, più di Lemar senza Aguero nel e l'Etihad spinge in City Lemar lungo per Falcao in velocità, bel duello con Stones che ci mette il fisico ma non trova il pallone, ancora Falcao il lot, 3 a 2 Io non ci credo, non ci credo David Silva sul primo palo c'è Sagnà corre il più profondo per Stones poi Aguero Aguero al volo 3 a 3 anche il Kun con una doppietta risponde a Falcao 3 a 3 partita fa vol Los, teso, doppia deviazione e poi di 4 a 3 di Stones che si può perdonare l'errore sul don di Falcao c'è un'energia pazzesca ora l'Etihad David Silva la sfrutta per Aguero controllo tocco corto Sané Sané 5 a 3 5 a 3 per i City doppietta di Sané ora lo sciglio occhio dentro pronto Buonaventura tra le linee Buonaventura va col destro gol fantastico Sec Buonaventura torna il gol e porta in vantaggio il Milan c'è lo spazio per Politano va col destro palla in rete pareggio del Sassuolo Pellegrini c'è che cosa occhio dentro a Cervi gli arriva il gol 2 a 1 sorpasso Sassuolo il gol dell'exa occhio dentro prova Pellegrini riesce a passare ancora Pellegrini col sinistro gol meraviglioso pronto Bacca va col destro palla in rete si riapre il match 2 a 3 Milan occhio al destro dentro prova paletta palla che resta viva c'è Locatelli prova gol fantastico 3 a 3 primo gol in Serie A di Manuel Locatelli palla nel traffico prova paletta eccolo qua che rimonta del Milan in pochi minuti da 1 a 3 a 4 a 3 pazzesco Navas attenzione Lewandowski parte lui la finta Lewandowski non sbaglia non sbaglia Lewandowski riapre tutto fai a Romano con vantaggio incredibile si è riaperto si è riaperto si è riaperto a Casemiro va a cercare Ronaldo fra la girata tra la girata tra la rata proprio lui proprio lui proprio lui Cristiano Ronaldo fa impazzire il Ben Lebeu nel momento più difficile parte il lancio Müller per Lewandowski cercano il dialogo poi toccali indietro è gradebile autogol incredibile autogol il Bayern Monaco passa in vantaggio su un autogol grottesco trova il pallone vitale, attenzione invece c'è il secondo giallo e quindi rosso anche Lucas Vázquez si è incentrato, Marcelo lo scarico su Ramos sta partendo Carvacal, Ronaldo controllo, tiro proprio lui ancora lui sempre lui Real Madrid con Cristiano Ronaldo trova il gol del 2 Marcello penetra deve triplare anche l'arbitro tutto solo Marcello, l'appoggio ancora Ronaldo Répe Ronaldo Répe la tripletta Asensio, Ronaldo vuole ancora il pallone Asensio va dall'altra parte può far tutto da solo Asensio, incontenibile Répe Asensio anche lui partecipa alla festa del gol 4-2 Milicele e la Rete assegnata alla Fiorentina con Vecino grande azione da parte della formazione Perisic per Candreva dribbling a rientrare Candreva Perisic pareggio nell'Inter al 28esimo minuto Ivan Perisic azione magistrale Joe Mario Icardi parte Mauro Icardi Icardi era di gore Icardi Rete l'Inter in vantaggio con il suo mancino è tutto pronto il fischio di Valeri parte Bernardeschi Bernardeschi tiro la parola di Antanovic eccolo il cross di Borca Valero il gol il pareggio di Astori ha pareggiato la Fiorentina colpo di testa vincente pallone la Fiorentina insiste Vecino zona tiro Vecino dentro Rete Fiorentina in vantaggio incredibile in mezzo a Vecino sta arrivando Beio uno contro uno Babacar contro Benel la piazza Babacar 4-2 Babacar 4-2 posizione regolare nel frattempo c'è Salsedo pallone per Babacar Babacar Rete e l'Inter qui è crollata tocchietta di Babacar 5-2 pallone è agganciato da Icardi si gira Icardi palo Rete gol dell'Inter ha segnato Icardi parte il cross di Icardi e ma c'è il gol dell'Inter ancora lui Mauro Icardi la battuta di Toni Kroos Ter Stegen quasi disturbato da Piquet Marcello raccoglie il pallone lo mette giù il contro cross qua Serkieramo si è agganciato Serkieramo scolpisce il paro la porta è vuota e Casemiro porta avanti la Real Madrid Rakitic controllo non perfetto sempre lì vicino Sardi Roberto si presenta anche Messi su di lui Casemiro c'è Buschez ora Rakitic di prima attenzione arriva Messi 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 pareccia il classico ha sputato via la garza e ha ripreso il Real Madrid un fulmine della pulga 1-1 Giordi Alba Giordi Alba viene fermato bravo Rakitic Rakitic deve andare al tiro col sinistro Ivar Rakitic segna il suo primo gol al Madrid con la maglia del Barça il Barcellona è in vantaggio al Bernabéu e ha segnato a noi di vita il rino rosso per Serkieramo Marcia rosso tutta la vita Marcello in mezzo si muove Ronaldo Pichie lo guarda e lo prende tratti Marcello sopra il palo Luca Gomez è il paletto il classico Gomez appena entrato porta palla Andre Gomez si punta dentro anche Giordi Alba lo ha guardato Andre Gomez per Giordi Alba lo scarica il limite BEL Sì io l'ho preso MESSI 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 manda il tappeto in Real Madrid vale qui la difesa della Bayern concede a Wolfsberg di entrare in area di coordinarsi la metta per Savitzer Marcel Savitzer lo sblocca subito 64 secondi Lewandowski contro Gulaci Lewandowski lo spiazza fa 150 Werner spiazza Stark il pallone messo a rimocchio per Wolfsberg e poi Poulsen tiro deviato e Yusuf Poulsen segna gol 3 a 1 3 a 1 Poulsen Poulsen altro cross per Schiavianoso che la rimette dentro e Tiamo a Cantara la riapre il pallone passa Werner passa anche lui ancora Werner tra le gambe di Stark Tiamo a Cantara la lascia open scambio uno schema dentro i 5 altro scambio Robben può calciare ecco lo tiro spraversa e Lewandowski di testa va Alava giro come alla Playstation David Alava 4 a 4 come due pugili che si scambiano gacci Lips e Bayern Monach in questo finale Robben e nè Arjen Robben 5 a 4 non è vero in mezzo Mojano bene anzi malissimo e allora Cabral lo giustizia così Carrasco ce l'ha sul destro poi crossa dentro Torres mamma mia Fernando Torres sempre più il conquistatore parte Fernando Torres traversa Ieguaspa solo ha visto adesso lo serve palla invitante fa in aria cerca di Morchio Guidetti che batte il portiere dell'Atletico Mojano per la seconda volta Koke arriva un altro traversone dentro molto insidioso Lucas Hernanes di testa ripropone verso Griezmann Carrasco Carrasco Camero da Griezmann l'hanno ripartata i colcioneros Antoine Griezmann finalmente